Le competenze nell'acquisto dei servizi e delle materie prime sono sempre più strategiche nel mondo globalizzato. A San Bonifacio si sono radunati i manager chiamati a raccolta dalla Daci, l'associazione di riferimento per i buyers di aziende private e pubbliche che acquistano merci e servizi. Tra le preoccupazioni sui costi dei trasporti, i recenti aumenti del carburante che influiranno sui prezzi e la consueta nota dolente relativa all'energia in Italia, il focus veronese si è concentrato sull'approvvigionamento dei metalli non ferrosi. I due principali hanno un andamento opposto. Il rame vive molto di speculazione con l'intervento di fondi di investimento, sente una mancanza di offerta e una domanda stabile, per questo le quotazioni sono decisamente alte. Di differente invece andamento è l'alluminio, in special modo l'alluminio secondario lega del pressofusione che è molto usata nel settore automotive. Il settore automotive abbiamo sentito in mattinata che è notevolmente in crisi, non si stanno sfornando nuove automobili, c'è poca richiesta, per cui c'è un crollo, c'è stato un crollo della domanda di alluminio, in special modo negli ultimi tre mesi del 2018 e questo ha influito molto sulle quotazioni che adesso sono veramente basse. La Daci, che oggi conta mille soci, ha scelto l'auditorium della Sinectra di San Bonifacio per lanciare i corsi riservati ai manager che si dedicano agli acquisti. Per le aziende che registrano un andamento positivo a preoccupare non sono solo i costi delle materie prime. Siamo molto positivi perché già a fine 2018 e a partire dai primi mesi dell'anno c'è una forte crescita della domanda, l'unica cosa che purtroppo abbiamo difficoltà è trovare maestranze, tecnici preparati, abbiamo queste difficoltà.